Salve, sono Alberto Caspari, consigliere capogruppo di lista per Biassono, il consiglio comunale del comune di Biassono. Abbiamo intenzione di presentare lunedì 29 gennaio una mozione dedicata ai giovani, in quanto nel nostro comune non esistono ancora strutture di supporto per attività di carattere recreativo, culturale o comunque per organizzare eventi destinati ad una fascia soprattutto di giovani d'età adolescenziale, comunque almeno fino ai 26 anni, per cui prendendo spunto da degli stimoli che sono arrivati da una manifestazione di grande successo organizzata da Biassono da due anni, che è il Talent Garden, iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Osculati per portare in luce quelli che sono i talenti giovani nel nostro contesto e in funzione delle richieste di ragazzi che chiedono di avere spazi per fare prove, per organizzare appunto laboratori, eventi, chiederemo un impegno all'amministrazione comunale per trovare una sede pubblica da destinare ai ragazzi, ai nostri ragazzi o appunto di proprietà comunale o quantomeni un accordo con privati, in particolare pensiamo magari alle aziende del territorio che possano mettere a disposizione magari parte dei loro laboratori, dei capannoni in gran parte anche abbandonati nella zona industriale e su rapporti di reciproco vantaggio poter avviare dei progetti di collaborazione dove ai giovani si è dato sostanzialmente spazio per sviluppare le proprie idee e portare servizi, iniziative, servizio della comunità e del territorio.